Tutto prego per la premazione del Ravenna Football Club per il campionato vinto. Ora tra pochi secondi il consigliere del comitato interregionale della Lega Nazionale di Campanita Teresa Montaguti consegnerà al Presidente Alessandro Brunelli la coppa che sancisce la promozione in Lega Pro del Ravenna Football Club. Grazie a tutti.